Siamo Alba Siamo Alba Adriatica Penso e spero che i cittadini possano avere fiducia in questo sindaco per quello che ha testimoniato sia nei precedenti mandati 1995-2004 e sia in questo mandato mai da sola ma sempre accompagnato da un gruppo che ha dimostrato nel tempo una condivisione di intenti e soprattutto una ferma solidarietà e fiducia nei confronti del sindaco che hanno sempre appoggiato. Abbiamo deciso di volerci mettere la faccia perché vogliamo fare una scommessa ma non una scommessa nel buio. Crediamo con le nostre capacità di voler ridare luce, ridare luce alla città attraverso i nostri tre simboli. La nostra lista è caratterizzata da trasparenza, legalità e partecipazione. Questo significa che vogliamo davvero far partecipare il cittadino alla vita amministrativa nelle scelte soprattutto cruciali dell'attività amministrativa e il cittadino deve essere protagonista di se stesso. Lo speciale è realizzato con i due candidati Andrei Nonda domani giovedì 27 aprile alle ore 20.05 sul Rete 8.